Il sindaco di Chieti Diego Ferrara ha partecipato alla manifestazione civica di ieri del Comitato Acqua Pubblica davanti alla nave di Cascella a Pescara, una mobilitazione popolare per avere ascolto e rimedi all'emergenza idrica che tocca duramente Chieti ma riguarda un ampio comprensorio della regione. Queste le immagini di ieri di Luca Pompei realizzate nel reportage sulla nostra pagina Facebook. Stamani abbiamo intervistato il primo cittadino nel suo studio medico a Chieti al termine delle vaccinazioni che ha effettuato ai suoi pazienti. Il diritto all'approvvigionamento idrico per motivi non solo di salute ma anche proprio di igiene pubblica è un qualcosa a cui non si può rimanere indifferenti. Ora nelle prime settimane di questa emergenza c'era in tutti noi la speranza che le cose potessero essere gestite e le sofferenze alleviate. Non solo così non è ma si suppone che nelle settimane successive nel mese di settembre le cose possano ancora peggiorare. E allora occorre mettere un punto fermo senza fare accuse, senza fare polemiche fratricide perché è un bene di tutti. La regione che è quella che deve mettere in campo fondi, strutture ed idee deve cominciare a muoversi. Deve cominciare a mettere soldi affinché le società che sia l'ACA, che sia la Sassi o quant'altro abbiano risorse per cominciare a cercare nuove fonti di approvvigionamento e soprattutto cominciare a riparare le strutture idriche periferiche che a detta di tutti, io non sono un tecnico, ma sono arrivate a perdere fino al 70% di questo prezioso liquido che è l'acqua. Quindi la regione per favore si muova per mettere in campo fondi e idee per risolvere il problema. Altrimenti l'anno prossimo saremo punto e a capo. Sindaco, i teatini come hanno risposto per le cisterne? Perché a Pescara abbiamo visto che i pescaresi un po' li hanno snobbate. Qui a Chieti? Fino a ieri, nel primissimo pomeriggio, ho avuto l'impressione che siano state snobbate anche a Chieti. Mi hanno segnalato solo 5 persone che sono afferite agli autobotti fisse, nelle postazioni fisse di via Aterno e di via Madonna degli Angeli, mentre non c'è stata nessuna chiamata per gli autobotti itineranti che servono per ripristinare i palazzi degli autoclavi. Grazie a tutti.